Non era necessario attendere l'esito delle elezioni 2014 per rendersi conto delle difficoltà interne al centrodestra in Abruzzo. Dissidi interni, fratture di coalizione, candidati doppi per la stessa corsa e poi le inevitabili polemiche post-disfatta. All'indomani della vittoria del governatore del PD, Luciano D'Alfonso, ad aprire le polemiche era stato l'ex assessore Mauro Febbo, che rivendicava un ritardo di partenza sul piano elettorale, immobilismo e poi tanti piccoli sassolini tenuti nella scarpa. Le critiche di Febbo erano rivolte prevalentemente a una gestione della regione che purtroppo c'è stata penalizzante, con una struttura che non ha risposto agli input politici e evidentemente c'era chi che doveva dare le giuste indicazioni e comunque quella che era a caldo una critica forte e netta di Mauro Febbo, credo che sia poi il pensiero di molti dei militanti del centrodestra. Preso atto delle vittorie e delle sconfitte, restano ancora dei presidi targati centrodestra, Teramo, Montesilvano e Chieti più grandi e dunque alla luce della filosofia del salvabile oggi si riparte per un nuovo assetto che parte dall'analisi degli errori commessi. Gli strappi sono sempre sanabili ma bisogna fare analisi sul risultato, non si può pensare di dire vabbè è successo e tutto finisce. Qui ci sono delle analisi da fare per capire dove si è sbagliato, per capire chi è sbagliato. Non si vuole crocifiggere nessuno, non si chiedono le teste di nessuno ma si pretende di fare un'analisi per capire gli errori, per riconoscere gli errori. Recitato un corale mea culpa, un occhio va anche all'attuale coalizione di centrosinistra che non convince l'opposizione che già trova le prime fragilità. In questi giorni vedendo la composizione della nuova giunta regionale si capisce che le grandi difficoltà che hanno, che ha la sinistra, questa bulimia del PD che ha fatto piazza pulita sugli incarichi, deludendo tutti gli alleati che hanno portato acqua alla causa di D'Alfonso ma poi non sono stati riconosciuti.